Il primo di novembre a Carpi, allo stadio comunale di Carpi, ci sarà una partita bellissima, la nazionale cantanti contro la nazionale non so di che cosa, ma comunque di gente che gioca forse meglio di me sicuramente. A me c'è un nome bellissimo, lo scarpone d'oro, sapete che c'è la scarpa d'oro, io sono lo scarpone d'oro, comunque sto scherzando, volevo dirvi, vi aspettiamo tutti veramente una partita importante per i nostri amici che hanno bisogno nelle scuole e in tantissime cose. Più persone saremo sugli spalti e più saranno grandi i regali che noi doneremo ai nostri bambini, quindi vi aspettiamo il primo di novembre, mi raccomando, siate in tanti e noi saremo in tanti in campo.